Ciao a tutti ragazzi, sono DJ Razelix e bentornati su Uncharted 4. Oggi vi parlerò del trofeo che si chiama Di Palo in Frasca. Per ottenere questo trofeo dovrete uccidere 10 nemici di fila, alternando sia le uccisioni con pistola o comunque con armi, a quelle con corpo a corpo. Ragazzi, io non so esattamente se debba essere fatto una sì e una no, però nel dubbio io ho provato ad alternare, a uccidere uno con la pistola e uno a cazzotti. Anche se nel video che state vedendo è capitato che magari 2 li ha uccise a cazzotti, oppure 2 a colpi di pistola. Insomma ragazzi, alla fine di questo video a me il trofeo l'ha dato. Però se volete essere proprio sicuri sicuri, fate così. Uno l'ha ammazzato a colpi di pistola o fucile, insomma l'arma che avete, e l'altro l'ha ammazzato a cazzotti. E il trofeo vi si sblocca in automatico. Detto questo, vi lascio a questo breve video che appunto vi fa vedere quando io ho tenuto il trofeo. Vi ringrazio dell'attenzione, il vostro DJ, e alla prossima con Uncharted 4. Ciao ragazzi! Ho trovato i bersogli vicino all'arco! Santino di... Dile di... Prova, basta! Battene da lì! È una tentativa, stronzo! Tira agli intorno! Sono fuggiti da quella parte! Dimmi se trovi qualcosa! Io vissi! Lo vediamo ma sono andati! Nathan! Ispezionate la zona! Mettili K.O. qui? Quattro! Ti vediamo ma sono andati! E' un bel? Ispezionate la zona! La zona di rosso! È un bel, grande... Sì! Ne puoi ancora? Eseguivo solo i suoi ordini. Ok, ma come pensi di essere... Eccoli qui! Stai giù! Forza! Proseguiamo! Forza! 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 Forza!